Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo la recensione di Gideon the Ninth, ovvero Gideon la Nona che uscirà a brevissimo per Oscar Volt in Italia e io sono molto felice. Ovviamente questa impostazione però sarà del tipo, questo libro fa per voi in modo che possiate orientarvi e capire se gli elementi di questo libro possono fare al caso vostro oppure no. E l'importante è che mi lasciate Harrow, il resto potete fare quello che vi pare. Comunque raga, cioè fare la recensione razionale, anche solo un minimo, di questo libro non ha il minimo senso. Ma chi sono io per oppormi? Alla volontà popolare che ha chiesto questa recensione a gran voce. Ci teniamo serie per un po', cioè per un po' di video, ho scritto una recensione lunghissima quindi raga preparatevi, ok? Detto ciò sarà completamente spoiler free, delirante sicuramente, ci proviamo a essere serie, però alla fine mi tengo gli ultimi minuti per fare fondamentalmente love love a Harrow e poi anche per dirvi un po' di opinioni più personali. Quindi mi raccomando sappiate che ci sarà qualche informazione sul libro chiaramente, ma non saranno spoiler su il libro. Insomma diciamo che vi arrangerete poi voi nel momento in cui deciderete se leggerlo o meno. Ah, e ovviamente se avete intenzione di leggerlo fatemelo sapere giù nei commenti, così insomma spero di avervi dato tutte le informazioni adeguate, spero vi incuriosisca e dall'altro lato insomma anche se non fa per voi fatemelo sapere, insomma se poi lo leggerete voglio sapere cosa ne pensate assolutamente, mi raccomando. Quindi sì insomma no spoiler, ce li teniamo a bombazza per la fine, però piccoli disclaimer iniziali servono sicuramente. Innanzitutto questo libro che io ho nell'edizione inglese, perché l'ho letto anche nell'edizione italiana e parleremo di quella soprattutto, ma l'ho letto con un semplice pdf che mi ha inviato Oscar Vaux, invece questa è l'edizione inglese che ho riletto, avevo già iniziato a leggerlo diversi mesi fa e poi l'ho appena riletto. Detto ciò, disclaimer, prima di iniziare con tutti i passaggi che facciamo di solito, in questo libro c'è un altissimo livello di violenza, proprio chilate, buttate in faccia di violenza proprio esplicita, grafica, sangue, ossa che si spaccano, ossa che fanno cose. Quindi insomma, se non amate questo tipo di descrizione, se non amate la violenza fisica, fisica, mi raccomando, non ci sono altri tipi di violenza. Insomma, descrizioni di interiore che escono, festival dei bagni di sangue, insomma, se queste cose non vi piacciono, prima cosa che dovete tenere a mente. Questo libro è estremamente grafico, estremamente volgare anche, cioè volgare nel senso che usa più parolacce di me, che è durissima, ok? Perché io parlo come una fogna, quindi good job. Insomma, quindi anche in questo caso, se non amate il linguaggio scurrile, è una cosa che è preponderante, penso proprio dalla prima riga, quindi se non vi piacciono le parolacce, beh, questo non è il libro che fa per voi. Fatte queste premesse che già mi hanno portato via 28 minuti di video, direi di iniziare con la trama. Cosa succede in Gideon, la nona? Gideon è cresciuta in un pianeta che ospita la nona casa, che è un posto che odia, pieno di gente che odia. È stata addestrata come combattente per tutta la vita in modi davvero estremamente crudeli e violenti, ma ora non vuole fare altro che lasciare questo posto pieno di gente che la odia, peraltro è la disprezza, e unirsi alla coorte, che è una sorta di esercito imperiale. Ha un piano di fuga finalmente, ma le cose non vanno come si aspettava. Le viene però proposta un'alternativa e anche se con grande riluttanza, alla fine Gideon accetta, proprio per potersi levare dalle balle dalla nona casa. Infatti, l'erede e sovrana, diciamo, semi-segreta, non ufficiale della nona casa, ovvero Harrowhark nonagesimus, conosciuta più per essere la spietatissima, ma soprattutto la prodigiosa adepta delle ossa, sceglie Gideon per servirla come primo cavaliere, anzi prima cavaliere. Una sorta di guardia del corpo fedelissima, che fa già estremamente ridere perché le due si detestano nel profondo, nel momento in cui l'imperatore convoca Harrowh e tutti gli altri necromanti, eredi al trono di tutte le altre case, per competere per una posizione di littrice, in questo caso littrice o littore, che è una figura praticamente immortale dai poteri limitati. Per diventare littrice, Harrowh dovrà partecipare a questa prova collettiva, che è praticamente impossibile e dove tutti quanti rischieranno continuamente la vita. Tutti i partecipanti vengono convocati insieme ai loro primi cavalieri alla prima casa, sul pianeta che ospita la prima casa, alla casa di Kanan, che è questo palazzo abnorme, vecchissimo, un luogo molto misterioso, terribile e vecchio, assolutamente infestato da una serie di creature, mostri, fantasmi, con poteri fondamentalmente sconosciuti, dove c'è l'altissima probabilità che moriranno praticamente tutti. Perché? Perché c'è qualcosa di orribile nascosto dentro le mura e soprattutto ha fame. Quindi Gideon viene catapultata in una fitta trama che prevede questa sorta di, chiamiamolo, rituale, prova collettiva, per far diventare l'ittrice Harrowh. Quindi Gideon si ritrova in questa trama, della quale ovviamente non sa nulla, non ha nessuna informazione, ma scopre fin da subito che sarà piena di misteri, massacri brutali, tradimenti, alleanze, e attende di capire di quali persone si potrà fidare e quali tenere estremamente lontani. E in primis proprio Harrowh, perché le due si odiano fin da quando sono state bambine. Questa è a grandi linee la trama, ma razionalizzare questa trama è stato comunque di per sé complesso, perché questo è praticamente ciò che succede solo nei primissimi capitoli, ma poi c'è tutto il resto del libro e il delirio che ne segue. Già il delirio di questi primi capitoli è abbastanza delirante. Passiamo a parlare dello stile, così potete capire se è una cosa che vi può interessare o no. Gideon the Ninth, secondo me, è troppo divertente per essere horror, ha troppe astronavi, troppi strumenti tecnologici, troppe questioni legate allo spazio e non solo per essere fantasy, ha troppi elementi fantastici e non fantascientifici per essere sci-fi. Insomma, Gideon quindi cos'è? Sci-fi, è fantasy, è horror, è gotico? La risposta è che è tutto questo messo insieme. Centrifugato senza il minimo senso, insomma messo in fila per quanto tu possa mettere in fila una sorta di collettivo queer e anarchico. Ci provi, eh? Però poi sono cazzi tuoi. Allora, vi faccio anche una primissima precisazione, perché avendo letto sia l'edizione italiana e quella inglese, probabilmente questa parte caotica e irrazionale la noterete molto meno nella traduzione italiana. Penso che la traduzione sia ottima, cioè Francesca Tegamini ha fatto un ottimo lavoro, ma è anche estremamente razionale rispetto alla scrittura della New Year. È anche un po' meno volgare, un po' meno grezza e meno ruvida. Non manca sicuramente di restituire ai lettori e alle lettrici tutti gli elementi che fanno Grande Gideon, secondo me, perché questa è una mia opinione. Però io ho percepito una differenza abbastanza tangibile, difficilmente colmabile. Mi sono chiesta per diverso tempo quale poteva essere l'alternativa a questo tipo di traduzione e non sono ancora arrivata a una conclusione credibile o comunque percorribile, perché probabilmente l'alternativa sarebbe stato prendere delle decisioni molto nette sulla traduzione e dargli un tono molto diverso, che però anche in quel caso non sarebbe stato assolutamente aderente alla scrittura della Muir, perché è una scrittura che in inglese si prende molte libertà ed è molto sperimentale. Quindi, davvero, detto con grande stima anche per il tipo di lavoro che è stato fatto nell'edizione italiana, ve la consiglio, però secondo me se volete le montagne russe o comunque se volete comprendere anche il tipo di esperimento che è stato fatto qua dentro, dovreste leggere l'edizione originale. Io non le faccio mai questi discorsi, cioè di solito parlo di edizioni e traduzioni solo se ci sono dei problemi. Però davvero in questo caso, più che in tanti altri, se volete vedere piovere madonne nel vostro cervello e non capirci più nulla, che è un po' il senso di Gideon, vi consiglio l'originale, che però è advanced come lingua, non è sicuramente un intermediate o un entry level, è anche un lessico abbastanza corposo, quindi se avete molta dimestichezza con la lingua, ve lo consiglio. Io mi ci sono fretta al cervello per leggere 200 pagine e ho un livello avanzatissimo d'inglese. Però la Moer, secondo me, ha un tipo di scrittura che è estremamente strana e divisiva. È un distillato primordiale di tutto ciò che ha a che fare con la stranezza, con la follia, con l'oscurità ed è stato messo su pagina e giuro, sembra che io abbia parlato di questo libro fino adesso come se non avesse senso e fosse tutto a caso. In realtà non è così. Ci sono tante parti che, secondo me, sono molto sperimentali, ma fondamentalmente questo tipo di scrittura, secondo me, è una delle cose che rendono più peculiare Gideon e che rendono questa lettura così divertente. Secondo me, lei riesce a tradurre questa spregiudicatezza, questa ribellione, questa oscurità, questa violenza, non solo tramite i suoi personaggi, ma anche e soprattutto tramite la sua scrittura. Spero che abbia senso questo discorso, se non ce l'ha, è difficile spiegarvelo in altre parole se non leggete almeno il primo capitolo in inglese. c'è proprio tanta sperimentazione, ci sono dei momenti che sono in qualche modo assimilabili anche al flusso di coscienza, ma non così manifestamente, in maniera anche abbastanza casuale in certi punti. In fondo il caos non manca, il suo stile si fa sentire pesantemente. Proprio anche l'immersione dentro questo tipo di approccio richiede diversi minuti, richiede diversi capitoli anche, però secondo me non sarà di certo un'occasione sprecata. Questo secondo me già di per sé non è per tutti, proprio come tutti gli autori e tutte le autrici che hanno uno stile molto personale e molto riconoscibile. Sicuramente vi premierà un po' di pazienza, ma secondo me per coloro che sono disposti a rilassarsi e a godersi questo spirito che è chiarissimo proprio fin dal primo capitolo, secondo me c'è tanto da divertirsi. Ovviamente queste premesse sono anche valide secondo me per l'edizione italiana in una maniera un po' meno preponderante, quindi secondo me noterete alcuni aspetti un po' meno caratterizzanti, però ripeto, ottima traduzione, ottimo lavoro. Comunque anche il sistema magico fondamentalmente è un po' un casino in questo libro, però secondo me non è necessariamente interessante andare così nel dettaglio con precisione in questo tipo di storia, perché funziona lo stesso e regge benissimo lo stesso. Sappiamo che coinvolge due entità di potere, latt'energia e latt'allergia, che una è l'energia vitale e l'altra è l'energia mortale, insomma ci sono cose di questo tipo eppure il world building alla fine non è il nostro centro focale in questo mondo. I dettagli sono pochi e ci devono bastare. E voi direte, quindi Tiffany, perché ti è piaciuto che non c'è un sistema magico che ha senso e non c'è un world building? cioè no, non è vero, non è che non c'è world building e non c'è sistema magico, sono abbastanza essenziali. Alla fine noi veniamo catapultate nel bel mezzo della narrazione con forza, cioè in maniera proprio repentina. L'amore praticamente è come se schioccasse le sue dita e noi appariamo in scena. Le cose appaiono, cioè le cose ci sono, ma senza appesantire la narrazione. Cerchi di seguirlo, di decifrarlo, di trovarci un senso, ecco, ed è quello che secondo me appassiona il lettore, è quello l'aspetto di intrattenimento più forte di Gideon, la nona, perché è estremamente trascinante. Cioè noi sappiamo che in qualche angolo dell'universo, forse lontano, forse antico, ma che ci frega. Noi sappiamo che esistono nove antiche case con nove sovrani ed eredi esperti in diverse forme di magia necromantica, fondamentalmente ossessionate dalla morte. Alcuni possono parlare con i fantasmi, altri possono usare alcune persone come sifone, quindi come proiezione dell'anima, fondamentalmente, o per risucchiare l'anima di altre persone. Lady Harawark nonagesimo si invece ha il potere di controllare le ossa, gli scheletri e i morti e può rianimarli e controllarli a piacimento e invece del ruolo del lettore noi sappiamo pochissimo, solo che ha questi poteri praticamente illimitati. La Moir fondamentalmente usa questo world building che potremmo definire quasi claustrofobico o comunque con una lente focale molto molto stretta per uno scopo molto preciso. concentrare l'azione verso questa serie di test questa serie di prove che saranno sempre più terribili e che servono ovviamente per creare una sorta di legame sia tra la trama e alcune brevi introduzioni del world building in modo che però ci sia molto spazio per lo sviluppo delle relazioni personali e interpersonali tra il cast che ovviamente è abbastanza limitato di personaggi però in particolare tra Gideon e Harrow infatti al centro di tutto ciò c'è il rapporto tra loro due e che si sviluppa lentamente da profondamente antagoniste verso qualcosa di meno definito verso qualcosa di strano di appropriatamente diverso ma sempre fondato su una connessione condivisa che si avvicina nonostante tutto quello che passeranno in mezzo a questa narrazione dal punto di vista narrativo questo è un libro che comincia molto lentamente nell'oscurità più morbosa e nel completo decadimento senza speranza della nona casa e praticamente da subito come uno schiocco di dita noi ci troviamo a seguire Gideon e Gideon forse appare a noi la troviamo in fuga e nel momento in cui noi arriviamo alla casa di Kanan tutta la storia prende una piega decisamente diversa più accelerata anche se all'apparenza non sembra assolutamente infatti la sensazione è un po' che per metà libro non stia succedendo granché ma è importante capire che è una grande mistificazione che vive il lettore anche un po' perché vieni poi salcerbata da tutta questa introduzione alle nove case a tutti i personaggi insomma ti sembrano tante macchiette inizialmente devi imparare a conoscere tutte le altre casate tutti gli altri cavalieri tutti gli altri eredi insomma c'è tanto da fare ci sono molti nomi e ruoli da ricordare ma secondo me mentre ci vuole un po' di tempo chiaramente per capire come funzionano le cose o per diciamo familiarizzare con questa lista di personaggi invece le personalità e rapporti tra cavalieri e necromanti sono molto più chiari e immediati e in parallelo la trama si sviluppa in un modo estremamente teso e nervoso in pratica anche se i personaggi stessi sono guidati dal dubbio dall'incertezza soprattutto sulla natura di ciò che stanno affrontando perché non è chiaro a nessuno e nessuno ha capito fondamentalmente qual è la natura della prova che stanno affrontando ci sono mille dubbi mille domande vengono però create numerose alleanze e la stessa Gideon viene ripetutamente messa alla prova dalla realtà della vita al di fuori della nona casa e anche da tutti questi rapporti interpersonali insomma nel momento stesso in cui noi mettiamo piede nella prima casa bisogna assolutamente tenersi pronti ad un'azione vorticosa costante sempre più cruda anche sempre più viva ed esplicita senza secondo me mai dare nulla per scontato anche quando pensiamo che non stia succedendo molto secondo me è una storia molto intelligente e sempre in ascesa piena di colpi di scene di un'azione estremamente divertente intervallata da tonnellate di volgarità e battute estremamente cupe cioè una volta che il ritmo inizia a salire e in questo libro proprio la tensione a un certo punto diventa incontrollabile tutto si intensifica in una conclusione personalmente che ho trovato estremamente eccitante che ti lascia senza fiato e euforica e francamente anche un po' traumatizzata anche perché ci troviamo davvero a seguire un epilogo e uno scontro finale che davvero dura per più di cento pagine cioè non come la battaglia di Hogwarts per intenderci al centro non c'è ovviamente solo l'azione in questo libro ce n'è molto chiaramente più si va avanti perché è ovviamente una struttura che ne richiede però c'è soprattutto anche lo sviluppo dei personaggi e dei loro rapporti interpersonali Gideon in particolare ovviamente che è la nostra protagonista e anche soprattutto superamento di una fase iniziale del personaggio di barriere di comprensione di insomma rapporti che si formano e si modificano a livello stilistico secondo me è importante segnalare che questa è una storia piena zeppa farcita fino al midollo di internet humor soprattutto di tante cose abbastanza classiche dell'internet ma anche tanto tanti meme tante battute tante cose da twitter 2017-18 è una sorta di vero e proprio tributo anche a quel tipo di ironia con cui sicuramente la Moira è cresciuta cioè una scrittura estremamente intrisa di cinismo esasperato strafottente però personalmente l'ho trovata assolutamente spassosa è chiaro che ha un'impostazione non teatrale perché teatrale secondo me è più una scrittura tipo Christophe però è sicuramente molto caratterizzante e secondo me è anche questo che porta molto spesso ad avere dei dialoghi brillanti ed è anche questo che secondo me porta molto spesso ad avere dei dialoghi assolutamente brillanti molto taglienti dialoghi molto diretti scene molto crude che centrano sempre il punto dell'azione e di ciò che significa la scena che stiamo leggendo senta troppi fronzoli o elugubrazioni varie non ci si perde mai nelle seghe mentali ecco quello mai questo secondo me è come vi dicevo anche all'inizio estremamente divisivo perché da un lato potrete trovarlo fastidioso presuntuoso eccessivamente spavaldo eccessivamente esagerato tra le recensioni negative che ho letto ho visto che moltissime persone che non l'hanno apprezzato hanno segnalato che fosse troppo esagerato ecco questo secondo me è proprio l'elemento distintivo cioè è una cosa che o ti diverte da morire ti intrattiene un casino ti fa ridere te lo godi lo trovi spassoso oppure lo trovi esagerato e lo detesti cioè vi può piacere da morire come potrete trovarla la cosa più fastidiosa del mondo e questo dipende moltissimo secondo me dai vostri gusti io chiaramente sono una grande fan di questo tipo di approccio quando è un approccio significativo per l'autrice e c'è una ragione dietro chiaramente la cosa che più ho apprezzato è che sicuramente non manca la voglia di sperimentare non solo attraverso i generi e gli approcci queira anche che sono molto evidenti in questa storia ma proprio perché anche a livello linguistico molte cose non sono lucide molte cose non tornano ma noi non siamo in una storia lucida ma noi secondo me non siamo in una storia lucida per la maggior parte del tempo o comunque non in ogni suo elemento mentre l'intenzione sì l'intenzione è assolutamente lucida insomma dopo questa pippone infinito sullo stile insomma sugli elementi che fanno parte soprattutto della struttura di Gideon spero che abbiate chiaro se questa può essere qualcosa che fa per voi o meno passiamo ai personaggi come avrete intuito noi abbiamo soprattutto due personaggi principali Gideon Nav e Gideon Nav e Harrow Arc Nonagesimus allora come avrete intuito noi seguiamo soprattutto due personaggi la prima è Gideon Nav personalmente una voce meravigliosamente unica sia nel panorama sci-fi che in quello fantasy la sua prospettiva è quella attraverso la quale noi seguiamo la storia e ci dà proprio il taglio prospettico secondo il quale seguire un po' tutte le vicende fastidiosamente la sua personalità è scontrosa presuntuosa fastidiosamente disinteressata a tutto ciò che non fa parte del suo immediato dei suoi piani futuri però allo stesso tempo nasconde una sensibilità che non è sicuramente scontata cioè in un mondo di necromanti scheletri animati creature mostruose e magia e os fondamentalmente una lesbica cinica con una spada un braccio enorme uno spirito sempre sveglio sempre acuto con una replica sempre pronta tagliente e sprezzante ha davvero molto senso tutto ciò che è strano tutta la violenza tutta l'oscurità vivono fondamentalmente dentro Gideon Nav è un personaggio che anche raccontandola può sembrare molto vicino magari a figure che noi abbiamo già incontrato già letto già visto una su tutte che mi viene in mente magari una mia corvere o peggio una strong female character ma secondo me è davvero molto distante da quei modelli Gideon intanto è un personaggio estremamente approfondito e stratificato fin dalle prime sue battute il modo in cui dialoga il modo in cui si pone e si racconta quelle poche volte che lo fa è sempre estremamente coerente con se stessa e con il modo nel quale ci viene presentata cioè lei è proprio il risultato di ogni cosa che le è capitata nella vita e lo trasuda proprio Gideon fondamentalmente agisce con una logica estremamente coerente all'interno del romanzo lasciando però sempre quello spazio verso la crescita personale verso dinamiche che probabilmente non avrebbe mai creduto possibili vabbè poi passiamo al mio nuovo grande amore che continuo a non capire se è un interesse romantico semplicemente un'immedesimazione ispirazionale a dei livelli che non sentivo da anni ovvero Harrow Hark nonagesimus reverenda figlia del sacro sepolcro e custode del sepolcro sigillato e poi una cosa che succede alla fine che è mega spoiler quindi non ne parliamo allora il suo personaggio è la descrizione proprio fatta a persone in carne ed ossa battutona scusate di ciò che significa intingere una pigna nel catrame e poi nella sabbia è davvero infilarvene un centinaio in luoghi oscuri del vostro apparato digerente riesce più di ogni altro personaggio ovviamente all'interno del romanzo a trasmetterci quel senso di unione di legame tra scienza religione e magia necromantica anche perché è tutto ciò da cui dipende questo universo è un personaggio potente incredibile ma assolutamente detestabile infatti we stand qua proprio qua proprio love per harrow a dei livelli inenarrabili è estremamente intelligente focalizzata di poche parole che tendenzialmente usa per rimettere Gideon al suo posto o per insultarla è solitaria ed è parecchio terrorizzata anche secondo me non ama sicuramente qualsiasi contatto con le persone che va dal di là di un vaffanculo e secondo me proprio l'aspetto più interessante del romanzo ovviamente si rivela essere il rapporto tra le due è un rapporto molto difficile conflittuale spinoso ma anche allo stesso tempo molto intimo Gideon e Harrow sono legate fin dall'inizio da quello che apparentemente è solo odio reciproco ma ciò che accade loro nella casa di Kanan è qualcosa che permette ai due personaggi sia da un lato di avvicinarsi per ovvie ragioni e per forza di cose ma proprio perché tutte queste prove permetteranno loro di esplorare ed affrontare nuovi livelli anche di esposizione personale a cominciare da una lealtà reciproca inizialmente estremamente precaria che sembra anche impossibile molto peculiare molto sui generis e che si dimostra sempre più convincente man mano che andiamo avanti e che lascia spazio anche a un legame più profondo ad altri sentimenti proprio perché affrontano delle prove atroci poi nel nostro universo chiaramente noi veniamo in contatto con tanti altri personaggi come vi dicevo all'inizio però non tutti loro sono approfonditi in fondo noi incontriamo tutti gli eredi delle nove case tutti i primi cavalieri delle nove case ci sono anche i sacerdoti e comunque gli abitanti della prima casa alcuni però li conosciamo più di altri alcuni sono molto più approfonditi degli altri conosciamo solo alcune informazioni utili allo svolgimento delle loro scene e delle loro scene mai in maniera unicamente funzionale ma sempre comunque strutturate in una maniera credibile e noi quelli invece che andiamo a conoscere un po' meglio è proprio perché stabiliscono dei rapporti con Gideon sia positivi che negativi infatti alcune persone cercheranno di stabilire un'alleanza o un rapporto con Gideon anche positivo altri invece si mostreranno fin da subito in palese contrasto noi ovviamente quelli che conosciamo di più sono quelli che più ruotano attorno a Gideon come Dulcinea Camilla Palamedes e li conosciamo sì un po' meglio ma la narrazione non si focalizza su di loro svolgono sicuramente un ruolo chiave nell'architettura della storia soprattutto non sappiamo fino alla fine di chi ci possiamo fidare e di chi no perché fondamentalmente non ci possiamo fidare di nessuno che è fondamentalmente quello che Harrow continua a ripetere a Gideon per tutto il romanzo ma Gideon vabbè comunque fondamentalmente da qua secondo me i punti chiave per capire se questo è un romanzo che può fare per voi o meno li avete quindi io direi che la parte spoiler free può finire qua insomma fatemi sapere se avete intenzione di leggerlo se ci sono altre cose che magari posso approfondire e insomma raccontarvi giù nei commenti così insomma ne parliamo insieme invece ora c'è due minuti proprio di spoiler a bomba perché è arrivato il momento quindi se non avete ancora letto Gideon mi raccomando abbandonate la scialuppa per chi invece lo ha già letto ok ora inizia il delirio ok allora io vi devo dire che fondamentalmente questo è un libro che mi ha uccisa quest'estate perché io l'ho iniziato a luglio e a fine settembre avevo letto 200 pagine in lingua originale perché è stata un'estate molto intensa per me sono stata molto stanca a settembre ho avuto un mese tremendo e quindi fondamentalmente cioè questo non è sicuramente un libro che non richiede attenzione ma non perché sia complessissimo dal punto di vista linguistico però perché richiede chiaramente una certa attenzione che io non avevo poi mi hanno fondamentalmente mandato la versione italiana l'ho letta in due giorni e ho anche già riletto Gideon in lingua originale e ora ho ordinato anche Arlo che è arrivato da poco insomma qualche spunto extra che può essere utilissimo per completare questa recensione io ho trovato come punto più debole del romanzo proprio il tema di fondo cioè la prova perché è completamente ancora un mistero comunque la cosa meno indagata è tutto davvero un po' casuale e non casuale in senso negativo necessariamente però sicuramente la cosa meno indagata che secondo me un pochino lascia smarrito il lettore fondamentalmente il lettore si trova nello stesso punto in cui si trova Gideon non sa un cazzo e ci sta secondo me è molto giusto però personalmente anche quello è un pochino la cosa che mi rendo conto avremo la necessità di capire un po' meglio o comunque più nel dettaglio però alla fine a me non ha pesato assolutamente perché alla fine comunque entriamo in questa dimensione completamente folle dove c'è un tradimento enorme arriviamo a una scena di azione che davvero dura 100 pagine ed è una e poi forse anche un po' di più ed è clamorosa a mio parere è davvero una delle scene migliori che io abbia letto nonostante non abbia senso nulla in quelle parole perché è veramente lì e la muera ha tirato fuori robe che succede ma va bene ma ci sta io apprezzo moltissimo questa cosa e soprattutto ovviamente l'avvicinarsi tra Gideon e Harrow è uno degli aspetti che a me sono piaciuti di più ed è un avvicinamento che a raccontarlo sembra sempre che tra le due sia scoppiato l'amore e non è assolutamente così e anzi è proprio un avvicinamento proprio millimetrico ma che per loro sono passi enormi e io l'ho trovato molto credibile soprattutto perché i presupposti per il loro odio iniziale sono perfettamente legittimi mai dimenticati anche lungo il corso del romanzo perché tra l'altro quando Gideon fondamentalmente la tradisce lo fa perché ancora non si fida di lei la considera ancora la pazza dalla quale voleva scappare e l'ho trovato molto potente anche i sentimenti conflittuali contrastanti tra di loro mi sono piaciuti moltissimo una cosa che ho trovato estremamente credibile che proprio fin dall'inizio ci viene detto non fidatevi di nessuno perché non possiamo fidarci di nessuno e infatti così è fino alla fine con risvolti che secondo me sono stati un po' caotici in alcuni punti ma secondo me volontariamente proprio perché la cosa folle riuscita secondo me è proprio questa immedesimazione tra ciò che noi vediamo cioè il lettore Gideon si trovano sulla stessa barca proprio si trovano a non capire un cazzo di quello che succede e secondo me funziona funziona in una maniera che ti fa reggere tutta la baracca e questo secondo me è un punto potentissimo perché o tu capisci questa cosa oppure questa cosa ti darà un gran fastidio e non ti piacerà dirai ma come non so niente e tutti gli altri aspetti secondo me questo funziona ed è molto potente ed è una cosa che mi è piaciuta molto poi vabbè io ho un amore immenso perché Haro c'è un personaggio veramente che mi ha lasciata no si aspetta la lucina ok è un personaggio che proprio ho amato molto e quindi insomma sono molto contenta anche di averla letta finalmente di essere riuscita a rileggerlo fate conto che quest'estate ci ho messo due mesi a leggere 200 pagine e invece ho letto dopo averlo riletto in italiano cioè ho riletto la versione in inglese in tre giorni cioè felicissima infatti ora ci buttiamo su Haro niente erano dei deliri finali solo perché io ormai parlo solo di Haro posto solo cose di Haro ho cercato delle fan art che a me non succedeva da mai dai tempi della Canège ok cioè da quando ho letto 6 di Corvi questo è per farvi capire e penso di aver letto 6 di Corvi nel 2015 quindi stiamo parlando di un sacco di tempo fa e quindi niente io spero di avervi tenuto compagnia con questa recensione spero di avervi dato alcune informazioni utili per capire se questo può essere un libro che fa per voi o meno fatemelo sapere sono molto curiosa e se avete intenzione di leggerlo se lo avete letto eccetera se lo avete letto mi raccomando giù i commenti con un bel spoiler per avvisare un po' tutti e tutte di evitare di leggerli e sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate io direi che per oggi potrebbe essere tutto ovviamente nell'infobox trovate tutti i miei link di affiliazione i miei link per farmi una donazione di caffè tutti i miei link ai social media soprattutto instagram dove mi potete seguire e io direi che per tutto il resto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao